Portafoglio e proteggi posizione. Confineco è semplice. Azioni, obbligazioni, fondi, derivati. Confineco hai tutto in un unico portafoglio, che in un clic si trasforma in una vera e propria piattaforma di trading. Nella pagina hai subito in evidenza il portafoglio di sintesi in formato elenco, con tutte le tue posizioni filtrabili per valuta e strumento. Cliccando su una posizione, puoi chiuderla, richiamare il book e visualizzare le news. In più, puoi proteggerla, inserendo uno stop loss, un take profit o un trailing stop, lo stop dinamico che segue il trend del prezzo e ti protegge seguendo l'andamento del titolo. Una volta inseriti tutti o uno solo di questi ordini, ti comparirà questo scudo azzurro, simbolo di protezione. Oltre alla vista elenco, hai a disposizione anche la vista per composizione, che ti evidenzia invece gli strumenti più presenti nel tuo portafoglio e il peso di ogni asset class sul totale, incluse le operazioni in marginazione. Fineco. La banca che semplifica la banca.